Non lo mettere da questa parte, ma è ancora rettombante E ragazzi, voglio mettere subito in simbolia con il nuovo moto, dai Punizione affidata al piede Diciotti Fuori Domenico Falco si invuola verso l'era di rigore Guarda sul destro, grande parata nel portiere degli allievi Il gioco di ragazzo Ancora Falco per Marinelli, all'ultimo passaggio c'è Cascone in mezzo Cascone ha interrotto posizione di attacco delle Vigor, Filippi, Falco Messo giù Falco, calcio di punizione Desimpegno di Cascone sul cross di Falco Guarda là, guarda là Da carico buono, assiste a destra, c'è Filippi Stavolta riesce a prenderla bene Amita Angiola Pedrone Pressato a centrocampo Falco per fuori tempo, colpisce anche la gamba dell'avversario Si continua Sergi Pagliato Alberto Carraro Ragazzo entra in area di rigore Con grande personalità e la butta dentro Confia la rete, ragazzo Grande gol dell'attaccante Sardo Eccoli qua Sergi e ragazzo che domenica li aspettiamo Ha un grande riscatto per la Dottissima prova E lo scivolone di Val di Sangro Adesso ancora fa cambiamento il mister Sergi attaccherà da quelli rossi Vediamo un po' lo spostamento Il ragazzo resta con i verdi Sergi va a fare il compagnino attacco Fa l'unica punta insieme al Riccobono Quindi lascia Falco e il ragazzo insieme Falco che parte molto lontano dalla porta Lancio di donato Di testa con calma A Cascone Dall'altra parte Cascone sta provando Quei titolari Cascone al mister Cambia il gioco all'Opedrone Per Alberto Carraro Mette giù Amita Questo lancio è Amita Ma non si lascia sorprendere Caruso Marenelli ancora per Attilio Angotti Adesso gli attaccanti Sono stati rivoluzionati dal mister Ancora Attilio Angotti Scarica a destra per Carraro Ma si lasciano sorprendere I due esterni Carraro e Ciotti La palla fuori Falco subito di prima per l'Opedrone Scarica a destra Per Ragazzo Che riesce ad artigliare Sto pallone a tenerlo in campo Ciotti Guarda il campo Fa un dribbling Un cross sul secondo palo Prova la girata al volo di destra Angiolo Petrone Palla Che sfiora il montante Inieme ci sono Cascone E Filippi Filippi messo a sinistra La difesa a tre Carraro un po' a destra Parte ragazzo Aspetta qualcuno sulla destra Non c'è nessuno Sbaglia il passaggio Per Va a finire a Clasadonte Sergi Cerca di tenersi largo Dal pressing Di Filippi Lancio subito Cercare un compagno Riccobono Ma se si sbaglia C'è Marinelli Basso per Falco In verticale Falco attacca l'area di rigore Subito un assist Per Ragazzo Un centrale difensivo Insieme di Donato Abbia Catturato il pallone Importante Che stava arrivando Al ragazzo Sergi Ancora Sergi Ticcobono Uno due Ancora Verso Il numero cinque Non ho capito chi è Perché c'ha il capuccio Marinelli Palla che arriva da Mita Tutto un frasseggio Centrocampo Della vigore Marinelli Tutto di prima Marinelli alza lo sguardo Chiama la palla Filippi Servito Filippi Verticale per Falco Tutto di prima Lopedrone Versangotti Che si lascia sorprendere Da questo assist di prima Di Lopedrone C'ho le mani ghiacciate Fa freddo Forse con un braccio No Si può continuare Ragazzo Potevi controllare meglio Questo pallone Sono cose importanti Stavi entrando in area di rigore Potrebbero succedere anche in partita Questi tipi di azioni Non bisogna sciupare niente I tempi si stringono Dobbiamo vincere C'è Luca Marinelli Alza lo sguardo Un cross Disegna davvero un ottimo traiettore Con questo cross Un po' lungo Per ragazzo